Allora, la prossima criticità riguarda l'agnaccino. Allora, l'agnaccino, come si è detto, prende tutta l'acqua della parte, se no si va a vedere qui c'è l'agna che scorre giù e prende sia l'acqua di Montale che l'acqua di questa parte di Montemurlo. Però questa zona qui, tutta questa zona qui collinare e anche, credo, tutta questa zona qui dove ci sono tutti questi campi. In pratica l'agnaccino, non so se riesce a prendere forse anche questa parte qui. Comunque, sicuramente l'agnaccino passa in questo punto qui. In questo punto qui, via tagliamento, continua la sua corsa in giù. e porta l'acqua per uscire, attraversa tutta Montemurlo e per uscire poi è stato fatto anche il nuovo impianto di sollevamento. Guido Orlandi, l'es vigile, che è una memoria, lui ha una proposta molto interessante. Ha detto, ma perché, dice, non intercettare l'agnaccino qui, che la fogna in questa strada ha la pendenza, porta l'acqua anche lei nell'agnaccino e qui sono quasi tutte acque chiare, insomma, non scarichi, non ce n'è, se no forse di questo gruppetto di case qui. Non invertire il senso della fogna e portarla direttamente nell'agna. e qui, diciamo, secondo me c'è la pendenza anche per farlo diretto qui, però se noi si va a vedere qui, in questa zona qui, ci sono due pescari, per cui qui arriva molto basso l'agnaccino. Per cui, se uno facesse, qui c'è una botola, arriva delle fogne grosse dimensioni, di cui una va anche in questa direzione, ora non pioveva perché non si poteva vedere se l'acqua arriva o va. Però quello, magari, puliacqua, che uno vede ispezione, potrebbe riuscire a capire il senso. Però o andare direttamente o andare qui, che c'è già la fogna, però, se detto, non sappiamo la pendenza, e portarla direttamente nell'agna, oppure farla di nuovo. Un'altra cosa importante che ha suggerito lui, quando fu costruito questo palazzo qui, qui dice, ci passava la gora, qui a fianco di questa gavina elettrica, e la gora dei tre mulini, che attraversava questo palazzo, e anche lei andava a finire nell'agnaccino, e probabilmente era qui, arrivava qui. Cosa fescero? La interruppero qui, per buttarla su via Alfieri. Infatti aveva dato molti problemi, all'inizio, sia su via Alfieri che sulle vie sotto. Per cui Guido suggeriva, siccome anche questa c'è poca acqua normalmente, però quando piove, gli arriva moltissima acqua su questa gora, addirittura, se detto, mandava la forza dei tre mulini, sarebbe di capire il percorso che faceva risalendo, magari con una video ispezione, vedere dove poterla intercettare. Probabilmente ci sta che venisse anche lei dall'alto, per cui, secondo lui, in questa zona qui, però, quello lo capirebbe meglio pubblicare. Con una video ispezione, fa il percorso della Foni e capisce dove va. E poi anche questa, perché qui c'è la pendenza, intercettare questa gora, e buttarla direttamente nell'agna. Così si eviterebbe di avere tanta acqua, di fargli attraversare tutta Montemullo, avere tanta acqua da sollevare, per poi ritornare lo stesso nell'agna, dopo aver speso anche per sollevarla.